Buon pomeriggio, mi chiamo Emma. Io sono qui a Dublino Cryptorium Limited in Irlanda per presentarvi un concetto nuovo ed eccitante. Vi siete mai chiesti perché l'oro è considerato prezioso? Il valore è derivato dai costi della mano d'opera coinvolti nell'elaborazione di centinaia di tonnellate di minerali al fine di estrarre il prodotto finto. La moneta elettronica bitcoin è preziosa nella stessa maniera proprio come l'oro. Può essere facilmente utilizzata per l'acquisto di beni e servizi o scambiata con altre valute. Tuttavia, il solo strumento necessario alla mia bitcoin è la potenza di calcolo. Al fine di estrarre bitcoin è necessario disporre di un computer altamente specializzato e potente, uno che può essere utilizzato costantemente. Una volta ottenuti i bitcoin, questi possono liberatamente essere scambiati con altre valute, come ad esempio i dollari USA. Ciò può essere fatto attraverso il famoso scambio di bitcoin. Guadagnare bitcoin non è possibile sul vostro normale pc. Il software per l'estrazione di bitcoin richiede un computer che effettui calcoli intensivi velocemente. Soluzioni informatiche efficienti sono necessarie a un computer per poter competere e qua è dove la Dublino Cryptorium Limited entra in gioco. Dublino Cryptorium Limited è impegnata nella progettazione di circuiti integrati per applicazioni specifiche e nello sviluppare una piattaforma informatica in grado di produrre bitcoin rapidamente e in modo efficiente. L'azienda si avvale di esperti nei settori della progettazione, distribuzione e gestione, che sono responsabili di una diversificata gamma di soluzioni IT. Questi esperti hanno reso possibile lo sviluppo di un nuovo servizio conosciuto come Cryptory, attraverso il quale si può affittare potenza di calcolo ed alte prestazioni al fine di guadagnare soldi sotto forma di bitcoin. A mano a mano che i clienti prenotano risorse di elaborazione, attrezzature a più alta potenza possono essere acquistate determinando la crescita esponenziale delle infrastrutture dell'azienda. La loro missione è semplice, fare di Cryptory un marchio internazionale leader. Tutto quello che dovete fare per ottenere istantaneamente un reddito in costante crescita è aprire un account sul sistema Cryptory e depositarvi dei fondi tramite un bonifico bancario o tramite qualsiasi altro sistema di pagamento. La quantità di bitcoin che matureranno dipenderà dal saldo del vostro conto, ciò significa che il vostro reddito aumenterà ogni giorno. È possibile monitorare ogni secondo di crescita accedendo al vostro account. I prelievi del vostro saldo disponibile possono essere effettuati in qualsiasi momento e verranno visualizzati immediatamente nel vostro conto bancario registrato. Cryptory è un servizio internazionale e il sito web può essere visualizzato in 10 lingue. Il servizio fornisce un pannello di controllo multifunzione comodo e intuitivo, attraverso il quale è possibile monitorare lo stato del vostro account, verificare le previsioni di profitto, visualizzare la cronologia delle trasmissioni e agevolmente permettervi di contattare il team di supporto tecnico. L'azienda utilizza attrezzature all'avanguardia e ogni membro del personale è uno specialista nel suo campo. Tutte le attrezzature sono continuamente monitorate e mantenute efficienti da ingegneri professionali. I vostri investimenti sono mantenuti al sicuro utilizzando la più avanzata tecnologia di criptografia prodotta dai leader mondiali nel settore. Iniziate a cambiare la vostra vita in me con Cryptory. Grazie a tutti.